Siamo andati a vedere lo stabilimento di Hydrochem che praticamente confina con la zona sottoposta a bonifica nazionale Sindial. Abbiamo visto semplicemente le produzioni, i vari reparti che sono quelli di clorosoda e di cloroaromatici e la zona sottoposta a bonifica è stata vista da lontano, sono state viste le colonne di distillazione che servono per purificare l'acqua prima di essere poi riversata nel rio Marmazza. La vera bonifica sostanzialmente ancora non è cominciata perché per ora la bonifica viene fatta soltanto sulle acque che vengono emunte, mentre per quanto riguarda la parte del terreno per ora è stato approvato ma si dovrà cominciare poi a scorificare il terreno e a sottoporlo ovviamente al trattamento di bonifica o nelle aziende che possono fare questo tipo di trattamento. Poi vedremo, questa bonifica durerà anni appunto perché è un sito di interesse nazionale con i problemi che ci sono legati al tipo di sostanze che girano perché parliamo di mercurio, parliamo di T, di cloroaromatici, sostanze abbastanza problematiche dal punto di vista ambientale. Grazie.